Upas, puntate fino al 15 marzo, Rosella turbata da Nunzio, Nico si frequenta con Valeria. Nella puntata Un posto al sole, che andrà in onda dall'11 al 15 marzo sul Rai 3, Rosella sarà felice che le sue amiche abbiano organizzato per lei un addio al nobilato. Continuare a preoccuparsi. Ma quanto sono legate a questa festa? Nunzio ha la possibilità di trascorrere qualche ora lontano dalle nozze. Nel frattempo Manuela vuole convincersi di non provare alcun sentimento per Nico, ma finisce per scontrarsi con lui quando lui decide di uscire con la sua ex Valeria. Aida trascorre del tempo meraviglioso con Diego Alberto sarà sicuro che Clara continuerà a stare al suo fianco. E mostrerà molti dubbi. Nel frattempo, Clara fa visita a Edoardo in prigione. Rosa penserebbe che Curcio sia arrabbiato con lei, ma in realtà Curcio ha imparato qualcosa di scioccante che potrebbe cambiarle la vita. Intanto Maria la vive momenti di grande ansia dopo la malattia di Guido e finisce per prendersi cura di lui, ma lui non tollera le sue eccessive attenzioni. Aida, inoltre, verrà esclusa dalla vita di Tommaso e troverà spiacevole la convivenza con i coniugi Ferri. La ragazza ha intenzione di approfittare della sua serata libera e trascorrere qualche ora divertente con Diego. Tuttavia, sia Marina che Roberto si arrabbieranno quando il piccolo Kovalenko non tornerà a casa all'ora stabilita. Filippo e Serena cercano di fare capire a Irene che i social possono essere pericolosi. Filippo e Selina vogliono portare Irene da uno psicologo. Tuttavia, questa promessa non è stata fatta a causa dell'atteggiamento della ragazza. Filippo è stato anche perché i suoi genitori hanno appreso che aveva utilizzato il vecchio cellulare di sua madre per guardare video inappropriati per la sua età. Entrambi cercano di farle capire che usare i social senza la supervisione di un adulto è pericoloso. Intanto Manuela continuerà a pensare di non provare più nulla per Nico, ma la realtà è diversa, sconvolta dall'incontro con Valeria. Quando Poggi vuole davvero rivedere il suo ex fidanzato, Cirillo decide di affrontare il ragazzo. Nel frattempo, Clara ha intenzione di visitare Edoardo in prigione e dargli un aggiornamento sulla sua vita. Un uomo la sorprenderà con reazioni e decisioni inaspettate. Infine, Rossella sarà felice perché le sue amiche le hanno organizzato un addio al nubilato, ma rimarrà scioccata dalla sua vicinanza con Nunzio con il passare della notte. Con l'avvicinarsi del giorno delle nozze, la giovane Graziani entra in chiesa ed è circondata dall'amore della sua famiglia. Precedente, Manuela e Jimmy sono infastiditi dal fatto che Nico abbia incontrato Valeria nella puntata andata in onda la scorsa settimana. Diego ha cercato di starle vicino, ma la ragazza lo ha si spinto per evitare problemi con Roberto. Ida ha scoperto che la salute di suo padre era peggiorata. Nel frattempo, Mariela decide di uscire più spesso con Beas per placare il suo rancore nei confronti di Guido. Il dottor Luca e il piccolo Manuel iniziano a sviluppare una bella amicizia, ma alla fine Manuela e Jimmy sono infastiditi dal fatto che Nico si sia riunito con la sua ex Valeria.